e torna il campionato di serie C2 con il girone A la Buena Onda ospita in casa l'Eur Futsal settecento quattro squadre divise in classifica da soli tre punti con l'Eur Futsal settecento quattro tra qualche istante arriverà quindi aderirà l'inizio di questa sfida proprio in questi istanti è il Buena Onda a gestire il pallo due ancora l'indietro Crepaldi zona mediana del campo prova un'imbucata e c'è anche il tiro molto stretto deve gestire questo pallone pallone che poi gli viene soffiato con Marini che tenta di andarsene c'è anche un po' il pericolo in questa azione se la lascia strappare da dato se ne va l'Eur Futsal settecento quattro la palla messa in mezzo possibilità e c'è il fallo in area si è portato lungo la finta di De Filippis poi ci prova è entrato Olivieri per quanto riguarda la formazione ma c'è il gol Gianluca dei giudici a sbloccare il match Buena Onda in vantaggio con dei giudici non c'è fallo continua a giocare Lepre possibilità con Albani protesta ma nulla per lui di buono Marini Crepaldi e poi la possibilità per Sebastiano di andare al gol del vantaggio dove trova Mazzaferri palla troppo all'indietro pericolosa Olivieri poi si riorganizza il tiro in diagonale c'è Margari da dato ci prova adesso dalla distanza Lepre adesso è De Giudici spalla alla porta tende l'inserimento dei compagni il gol del pareggio di Claudio Longo una fiondata sbatte nel palo interno e finisce la sua corsa in rete Lauri un po' più appostato all'indietro c'è Olivieri che colpisce poi palla che sbatta De Filippi e ingenuità del portiere di casa e arriva il gol del vantaggio Olivieri Croci Sebastianelli Marini il tiro smanacciato Margari De Giudici la palla lo stop con il petto la finta con il corpo il tiro in aereo Crepaldi De Giudici e la possibilità poi per il Buena Onda poi la battuta a rete possibilità recupera Lorello anzi è Crepaldi in gol di Bimbo Crepaldi 3 a 3 con De Giudici che tenta di andarsene invece subito recuperato il pallone da Lepre per Lauri il tiro di Lauri Crepaldi De Giudici prova De Giudici il vantaggio di Gianluca De Giudici si prova ed è il gol questa volta in rete la fiondata di Claudio Longo 5 a 3 Buena Onda Doria va a bloccare il pericolo no c'è una deviazione di Olivieri e c'è il 5 a 4 parte Gianluca Longo prova palla che trova la deviazione molto movimento soffia il pallone lungo e l'Aprilia allunga sul 6 a 4 finisce a terra Cimadonna 7 a 4 importante il gol proprio in questi istanti ancora Olivieri la finta con il corpo rientra poi gli soffia il pallone Lorello Marini poi Pasticcio in area e sull'asse Albani Lepre arriva il gol ci prova dalla distanza Crepaldi e arriva il triplice fisco finale Buena Onda conquista la prima vittoria della stagione battendo Leo Fuzza al 704 per 7 a 5 Quai